Come ci si sente ad essere lo scrivante? Allora, benvenuti all'intervista Andiamo, andiamo Non ci può! Dobbiamo fare il video! È per l'after party No, per l'after party monkey No dentro! Lista monkey fammi fintire, hai capito figlio di c***o? Ma mi stai ascoltando figa? Ma hai capito? Allora già ti interessa più la musica, le chiappe? Chiappe Personalmente è chiappe Che c***o so da zia Pint up Pint up Work Work Money Party Bitches Sexy Ladies Flickin' Switches Work Money Party Bitches Sexy Ladies Flickin' Switches Workin' hard throughout the week It's time for me to move my feet So make some money, get some honeys Now we rockin' to this beat All the ladies in the place Let me see you sexy face Turn that photo up, lift your skirt up Everybody get yo hands up Get yo hands up mett회 Everybody get yo hands up Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Posso attaccarti anche io l'adesivo alla prossima scoop party?